è una vittoria che vale tanto tanto una vittoria meritata ma questa ha un valore specifico importante sia per il morale e a questo punto anche per la classifica perché è chiaro che è contro una diretta concorrente sì diciamo che abbiamo fatto la partita che volevamo fare e che speravamo di fare contro un avversario ostico che ci ha comunque sempre attaccato è una squadra che ti mette in difficoltà soprattutto lì davanti abbiamo corso pochissimi rischi pochi e abbiamo prodotto tanto lavorando molto in verticale sulla loro giocata in avanti che loro è una squadra che vuole giocare ma che aggredisce molto anche in avanti quando non hanno pallo quando la perdono ed è stata una vittoria sicuramente meritata visto anche il numero di occasioni che abbiamo creato i gol sbagliati le grandi parate del portiere quindi il risultato poteva essere chiuso la partita poteva essere chiuso prima con un risultato più rotondo però siamo molto contenti perché chiedevo alla squadra un po di cattive regionistiche in più c'è stata e niente dai dobbiamo continuare sappiamo che il percorso è ancora duro è lungo abbiamo una buona classifica ma in serie B se vinci due partiti ti trovi a lavorare e giocare per i piani alti se ne perdi due purtroppo ti ritrovi nella sabbia mobile sappiamo come funziona tra l'altro mister ieri aveva chiesto proprio questa rabbia questa feroce da parte della squadra che si è vista in campo e per la prima volta l'entella segna due gol in una partita in questo campionato sì dai abbiamo ripeto costruito anche nelle altre partite siamo stati a volte un po' sfortunati un po' bravi gli avversari un po' meno bravi noi era una partita molto importante un scontro diretto e quindi sapevamo che era importantissimo vincere la partita l'abbiamo fatto quindi benissimo dai